Oggi parliamo di led strip vanno di moda un bel po' online perché costano pochissimo perché si possono utilizzare in tante maniere differenti possono assumere diversi colori avere diverse modalità e quindi sono in generale molto fighe e vengono vendute sia in bulk diciamo al metro 5 metri di strip led ormai costano praticamente 5 euro online per cui veramente niente però in quel caso sareste obbligati a comprarvi anche un alimentatore fare tutti quanti i conti del consumo in base a quanti metri ne comprate bla 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 io invece volevo un kit semplice da montare in teoria vediamo se anche in pratica che abbia già tutto quanto incluso e l'ho trovato spero lo scopro adesso in questo a led light bla bla qua insomma non capisce neanche bene la marca comunque è uno di quelli più venduti su amazon è un kit che comprende una strip da 5 metri un telecomando e l'alimentatore vediamo dentro ecco qua il contenuto lo vedete questo è il ricevitore a infrarossi del telecomando questo è il telecomando che mi sembra una grande comodità perché appunto può comandare i led cambiarne il colore sono led rgb vengono venduti sia impermeabili che non impermeabili la differenza di costo tra i due kit è un solo euro quindi tanto vale direi comprarli impermeabili però insomma vedete voi parliamo veramente di una cifra ridicola per tutto il kit 18 oppure 19 euro telecomando è anche fighino c'è i vari colori ci sono le varie modalità da quello che ho capito ci sono quattro diverse modalità su flash strobo dissolvenza oppure fisso a me interessa il fisso bianco in realtà niente di che dunque il telecomando a qui questo immagino che se lo tiri esatto la batteria a questo punto è attiva poi c'è un alimentatore da 12 volt si 12 volt 3 ampere che ha già studiato appunto per la striscia di led interna delle istruzioni che insomma mi sembra veramente molto semplice il tutto niente di che e poi c'è la strip vera e propria qua dentro adesso la faccio vedere andiamo ad aprirla vediamo un po' dovrebbe essere un bel rotolo di 5 metri di led eccoli qua sembrano meno in realtà spero che siano 5 metri davvero ci sono chiaramente i cavi per collegarli alle due estremità è di quelli standard per cui in realtà potreste forse anche allungarla comprando i bulk di cui vi parlavo prima questo va collegato qua chiaramente c'è anche una freccia che vi indica il senso vedete ci sono due freccettine non so se si vedono in camera comunque ci sono due freccettine che vi indicano come vanno collegate tac eccetera insomma il ricevitore molto comodo vi spiegavo perché si potrà utilizzare il telecomando io le comprate per illuminare la libreria qui nello studio nero qui di fianco in redazione a questo punto invece che mostrarvela semplicemente così e la monto e ve la faccio vedere nella libreria che è ripeto una dei tanti usi che se ne possono fare potreste attaccarle dietro alla tv dietro i mobili dargli diversi colori magari non so state guardando film particolari rosso verde eccetera o può comunque illuminare il salotto in diversi colori proprio grazie al telecomando ricreare quindi diversi scenari c'è anche l'intensità della luce vedo ora qui in alto insomma c'è veramente di ogni tra l'altro ci sono anche sei programmi che immagino si possano programmare appunto in varie maniere insomma mi sembra veramente figo per quello che costa 18 euro lo faccio vedere montato o ecco qua l'ho montato al volo oltre comando in mano ora basterà premere on oppure uno dei colori per accenderlo ecco qua il bianco su cara un attimo la camera ok e chiaramente fa un sacco di luce in realtà sembra molto di più qui in ripresa di quella che ne fa effettivamente avevo spento un po le luci e chiuso le finestre vi faccio vedere un po tutti quanti colori disponibili chiaramente sono disponibili sia colori fissi e di ogni colore è possibile impostarne anche l'intensità quindi chiaramente si può impostare in generale l'intensità dei led oppure cambiare il colore semplicemente premendo il tasto corrispondente sul telecomando ci sono anche diversi effetti che si possono attivare se vi frego qualcosa degli effetti sono veramente abbastanza tamarri c'è di ogni c'è c'è il flash c'è questa roba natalizia c'è la strobo c'è il fade che varia da uno all'altro che questo qui il fade insomma ci sono diversi effetti che si possono attivare questo è il risultato se vi piacciono i miei unboxing fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di incauto unboxing ciao ragazzi